Ci sono comunque altri 6 match point per Soverato Battuta al salto, ricevuta da Quarchioni Mortoli per l'attacco di Masone Muro fuori E allora il Soverato chiude la regular season Con una vittoria 3-1 qui al Palascoppa 25-18, 25-17, 19-25, 25-18 ai parziali Altri 3 punti in cascina In vista della pool promozione E chiude alla grande la regular season il volley Soverato Coach Napolitano, si chiude una grande regular season Per il volley Soverato, secondo posto nel girone A E poi specialmente un girone di ritorno di questa regular season Dove ci sono state praticamente tutte vittorie Ad eccezione della partita con Marignano Non si poteva chiedere sicuramente di più a queste ragazze Io partirei prima dall'analisi della partita Perché sinceramente se vogliamo continuare a fare bene Dobbiamo evitare che ci siano questi cali Di attenzione e di intensità nel gioco che proponiamo Non voglio assolutamente mettere in secondo piano la grande stagione Almeno in questa prima parte che abbiamo fatto Però il mio lavoro è quello di partire dalle cose che non vanno Per cercare di migliorarle E il terzo set mi è piaciuto veramente molto poco Merito sicuramente a Montale che ci ha creduto Era in campo con tre liberi Quindi hanno aumentato il livello di ricezione Soprattutto quello di difesa Però una squadra che vuole continuare ad essere in qualche misura protagonista Ma non tanto nella classifica Più che altro nel gioco Perché poi a me quello che interessa Non può permettersi questi cali di tensione Detto questo È chiaro che Il secondo posto nel girone Credo il terzo nella classifica Adesso l'andremo un po' a guardare Ma non per guardare la classifica Ma per capire contro chi dovremo giocare Sicuramente È tanta roba Soprattutto se penso a dove abbiamo cominciato Due mesi a Sant'Andrea Non voglio ripetermi Ma è un percorso che è stato difficile da fare Devo ringraziare le ragazze Perché come ho detto in qualche altra occasione Lo voglio ripetere Quando c'è la fiducia incondizionata del gruppo che alleni Alla fine la perseveranza premia Quindi non era facile oggi Nonostante la squadra che avevano di fronte E alla fine chiudere il giro di ritorno Con una sola sconfitta Credo che sia veramente tanta roba Questo secondo posto permette anche di giocare I quarti di finale di Coppa Italia In casa Mercoledì prossimo Quindi non c'è tempo per respirare Nemmeno mercoledì si torna in campo Sarà sicuramente una gara importante Dovrebbe essere Ravenna L'avversario di turno Quindi subito Testa al lavoro In vista di mercoledì Ma come ho detto in altre occasioni Diciamo che comincia anche il tempo di confrontarci Con le squadre dell'altro girone E la Coppa Italia la interpreto anche molto in quest'ottica Poi è chiaro che ci teniamo a fare bene Abbiamo secondo me in questo momento Un po' più di responsabilità Giocandosi questo carto di finale in casa Insomma la pressione passa un po' dalla nostra parte Però se vogliamo fare bene Dobbiamo anche abituarci a convivere Con la pressione Con l'idea di giocare anche ogni tre giorni Perché poi non ci dimentichiamo che L'eventuale semifinale sarebbe domenica Pensiamo adesso al quarto di finale Però è chiaro che in una programmazione Non possiamo non tenerle in conto Ho bisogno della disponibilità di tutte le giocatrici Come è sempre stato Dobbiamo recuperare un pochino Silvana Che ovviamente paga il mese di lavoro Con la nazionale Insomma gli spostamenti Però voglio dire Alla fine grazie a queste ragazze Che ci stanno regalando veramente È una stagione molto molto positiva Con il coach Ivan Taburello Commentiamo questa sconfitta della Montale Qui a Soverato 3 a 1 Forse possiamo dire una partita dai due volti Primi due set dominati dalla Soverato Terzo set reazione Quarto set anche un buon Montale In condizioni di formazione precarie Che complice anche l'infortunio di Aguero Ad inizio gara praticamente L'infortunio del nostro capitano È grave nel senso che Tai si è rotto il tendi ad Achille Mi piace moltissimo per lei A parte a prescindere dalla partita È un infortunio grave Penso che la sua stagione sia finita qui E invece per quanto riguarda la partita Anche nei primi due set Se non eravamo dentro nel punteggio Io avevo la percezione Che potevamo stare di più nel match E potevamo giocarci La cosa che è accaduta nel terzo E in parte nel quarto set Io devo fare i complimenti alla squadra Perché oggi c'erano in campo tantissime giovani Che non è un problema anagrafico Ma è un problema di esperienza di campo Perché si può giocare in Serie A a 18 anni Come a 40 E quante partite hai fatto E loro ne hanno fatte pochissime E giocare alla pari Con una squadra forte come Soverato Che è seconda in classifica Che è in casa Ha sempre praticamente vinto Io devo dire che abbiamo fatto Sicuramente una buona gara Ecco proprio questa era la seconda domanda Praticamente ha mischiato molto le carte Nel corso della gara Si è affidato a tanti giovani Che però a mio avviso Hanno dato delle buone risposte Una base su cui lavorare Su cui ripartire sicuramente Sì sì sicuramente Questa è la nostra squadra La nostra salvezza verrà fuori Da queste braccia e da queste teste Quindi la squadra c'è Lo ho dimostrato oggi In un campo difficilissimo Quindi discorso anagrafico Conta poco Sono bagger E palle da mettere a terra E io credo di avere un buon gruppo E noi faremo di tutto Per tenere la categoria Con questo gruppo giovane Ma abbastanza determinato Infine si chiude oggi la regular season Di conseguenza la prima parte di stagione Un primo bilancio si può fare Al termine della regular season Qual è il suo giudizio Sul campionato della sua squadra Una squadra che sicuramente Ha dimostrato di poter avere Ampi margini di crescita Ma come in precedenza Ho detto in altre occasioni Noi avevamo più obiettivi E uno di questi Era quello di crescere Le nostre giovani Come ho detto prima Per esperienze di campo Da serie A Questo percorso Chiaramente passa Dalla quotidianità Dai nostri allenamenti Cosa che è accaduta E i frutti Si sono visti anche oggi Anche se non abbiamo raccolto Io credo che abbiamo fatto Delle cose pregevoli In alcuni frangenti del gioco Quindi il percorso è questo Si può continuare a crescere I margini ci sono Adesso dobbiamo essere concreti E portare i punti Che sono determinanti Per mantenere la categoria E portare i punti